Grazie a chi mi ha preceduto, grazie ai rubettino per avermi coinvolto in questa iniziativa che quindi mi permette di ritornare in questo luogo affascinante per tanti motivi e subito dopo a voi per la vostra disponibilità a sorbire parole prima di sorbire cibi e bevante che certamente seguiranno. E poi siccome è già la mia moglie la quale ha l'abitudine di guardarmi storto quando supero limiti normali di tempo, soprattutto quando questi tempi sono appunto preprandiali, ho pensato pur non amando scrivere prima gli interventi e quindi leggerli, che forse questa volta era necessario appuntare delle cose e quindi lo farò. Questo tra l'altro significa, credo sia abbastanza evidente, impegno a non tediarvi oltre misura. e poi invece pensavo che in realtà queste tre giornate che si richiamano a un attrezzo ampiamente usato e tradizionalmente usato dai pescatori per catturare prede varie e raccogliere esperienze nel caso specifico diverse, mi consentiva di portare avanti questo mio viaggio che è un viaggio verbale e quindi non fisico, il che mi consente o mi ha consentito di evitare quelli che erano i consigli dati dalle guide di un tempo a chi si accingeva al viaggio. Consigliavano infatti di celebrare messe in onore dei Re Maggi e soprattutto di confessarsi e comunicarsi prima di partire perché la partenza era certa ma il ritorno non lo era altrettanto. Qualcuno aggiungeva anche di purgarsi perché il viaggio era sempre pericoloso anche per quelli che potevano essere gli esiti a livello gastronomico ed enderocolitico. non ho avuto nemmeno o non ho nemmeno la necessità di fornirmi di lettere di raccomandazione come accadeva ai viaggiatori del passato i quali viaggiando in territori dove di solito le locande non erano molto raccomandabili né per dormire né tantomeno per consumare i pasti cercavano di rivolgersi a persone di rilievo in ambito provinciale e questa cosa accadeva per quanto riguarda la nostra regione prevalentemente o quasi esclusivamente a Napoli. Ai consigli di qui sopra si associa nel mio ricordo il consiglio che dava invece un viaggiatore un anonimo viaggiatore inglese, lo sapete che di solito quando si parla di viaggi, di letteratura di viaggi gli inglesi sono in primo piano, il quale consigliava per avere una conoscenza abbastanza compiuta dei territori e delle località dove ci si dirigeva di appuntare la propria attenzione soprattutto su tre aspetti che erano, lo diceva un uomo, le donne, i mercati e i cimiteri. Attraverso questi tre aspetti della esistenza e della realtà locale si riusciva a risalire alla cultura che presiedeva in quelle località e quando al secondo punto ovviamente, quindi abbiamo detto donne, mercati e cimiteri, io oggi mi fermerò sul secondo o sulla seconda delle tappe da lui suggerite. e a proposito di questo non si possono non citare due fonti, uno che è Marx, il quale scrive che non si conosce un paese se non si è mangiato il suo pane e bevuto il suo vino e l'altro invece è Italo Calvino che in una delle sue opere sotto il sole del geguaro scrive testualmente il vero viaggio in quanto introiezione d'un fuori diverso dal nostro abituale implica un cambiamento totale dell'alimentazione, un inghiottire il paese visitato nella sua fauna e flora e nella sua cultura non solo le diverse pratiche della cucina e del condimento ma l'uso dei diversi strumenti con cui si schiaccia la farina o si rimesta il paiolo facendolo passare per le labbra e l'esofago questo è il solo modo di viaggiare che abbia un senso oggigiorno quando tutto ciò che è invisibile lo puoi vedere anche alla televisione senza muoverti dalla tua poltrona il cibo come è noto ha molteplici valenze tra le quali non secondaria quella del piacere della gola peccato capitale che si tenda oggi di derubricare all'insegna dei versi dell'ecclesiaste che dicono, che recitano e io lodo il piacere l'unico bene che l'uomo ha sotto il sole è mangiare, bere, godere il piacere della tavola aggiunge Bria Savaren è di tutte le età di tutte le condizioni sociali di tutti i paesi e di tutti i giorni può associarsi a tutti gli altri piaceri e resta l'ultimo a consolarci della loro perdita ora la tavola quindi come metafora di luogo privilegiato non esclusivo della consumazione di cibi e bevande la tavola come una delle fonti storiche per ricostruire le vicende in senso lato del passato si pensi al noto saggio di Legoff dal titolo alla tavola di Cristo a ciò si aggiunga la velleitaria pretesa di aggirarsi sulle sponde del Mediterraneo che figura nel titolo di questo mio dire temperata dalla necessità di obbligate puntualizzazioni a partire da quella che vuole i luoghi di partenza nel duplice ruolo ruolo di luoghi dell'arrivo e di conseguenza di frequentazioni molteplici coglie il concetto con felice intuizione un pittore che era anche poeta mi riferisco a De Notria il quale scrive dicino cantata a terra a dubbi chianto cipui camparo per mill'anni greci arabi e normanni per chissi sogno doci da suffumeri i gloria a parichelia i cipui nascino a mezza storia delle molteplici frequentazioni del passato quindi luoghi di partenza e luoghi contemporaneamente dell'arrivo di partenza di alcuni e di arrivo di altri delle molteplici frequentazioni del passato sono tracce indelebili nella lingua italiana nonché nel dialetto la tradizione greca è presente nei dolci col miele di cui parla Teocrito in poeta siracusano in quelli natalizi un tempo detti engrides frammenti di bastoncini di pasta fritti nell'olio e oggi amalgamati con mandorle miele caldo frutta candita da tagliare una volta raffreddati a fette nella pitta cambigliata versione attuale dell'enguitus dolce a forma di spirale nonché in una serie di termini come laganon all'origine dei dialettali lagane tagliatelle e laganaturo per il materello ma anche in usi come per esempio il banchetto funebre ma collegandomi a questo laganon il termine è passato quasi integralmente intanto a Roma c'è in una delle satire Orazio scrive testualmente inde domum me ad porri et ciceris refero laganique catinum ora calcolate che questo ciceris laganique significa ciceri e lagane quindi nel caso specifico adesso me ne torno a casa alla mia scodella di lagane e ceci e quindi dalla Grecia è passata a Roma e dalla Roma è finita nel nostro dialetto ma la presenza latina per la presenza latina ricordiamo il pangotto le pesche sottaceto quelle duracine di questo periodo che si mettevano e si mettono appunto sottaceto l'insalata di cavolo crudo di cui parla Verrone i crustula e i mustacea dolci di farina in mostocotto ancora presenti con gli stessi nomi ma con varianti quanto gli ingredienti mentre delle fave si mangiavano e si mangiano anche i beccelli così come diffusa era ed è la verniciatura con l'uovo di alcuni tipi di pane per farvi aderire sostanze aromatiche come i semi di sesamo e finocchio a ciò si aggiungano parole come rosomarina pitta suilli eccetera rosomarina per chi non lo sapesse è il termine che si usa nella zona cosentina per indicare la conserva di bianchetti e se qualcuno si chiede da dove venga questo termine dialettale è praticamente latino rimasto tale quale rosmaris vale a dire ruggiada di mare perché quando si prende il bianchetto dà l'impressione di essere proprio della ruggiada che si raccoglie tra le acque marine oppure suilli è il termine per silli i porcini in dialetto oppure pitta pitta che tra l'altro si trova anche in alcuni paesi arabi e che ha un significato interessante perché non è nient'altro che la forma italiana di un participio passato del verbo pingo pingis che significa dipingere decorare e quindi pitta significa letteralmente decorata dipinta e sembra strano che una focaccia forata abbia una denominazione che viene da questo participio passato invece si capisce facilmente perché era ritenuta il massimo del piacere della gola per quanto riguardava i pani e di conseguenza il meglio che si poteva offrire alle divinità ma per offrirle alle divinità ci si preoccupava anche di decorarla convenientemente o utilizzando i colori o utilizzando come si va ancora oggi la pasta modellandola variamente con fiori motivi vegetali uccelli ed altri sulla sulla gola l questo credo che tutti voi in qualche modo abbiate avuto il piacere di gustarla calda e di sapere come davvero sia un'eccellenza indiscussa semplicemente tagliata a metà farcita con un filo d'olio e una spolverata di peperosso piccante come a me piace chiamare e definire il peperoncino o con i ciccioli del maiale che si sciolgono al calore della stessa in dando di piacere la nostra gola scondate le presenze greco-latine ma anche arabe shirubbetta che è il gelato di neve è quasi identico alla parola araba sharbat che significa appunto gelato di neve così come invece quella che noi abbiamo definito rosa marina nella zona ionica prende il nome di mustica che è il termine arabo usato per il recipiente di terracotta nella quale questa conserva di pesciolini appena usciti dalle uova veniva e viene conservata quindi termini latini greci nel caso specifico arabi ma ce ne sono altri francesi credo che tutti sappiate perché ormai è diventato uno dei cibi identitari della Calabria l'anduia dal francese andui ma non soltanto l'anduia di Spilinga e di tutto il circondario dove questa eccellenza calabrese viene preparata ma anche per indicare altri tipi di salumi che che si chiamano Nduglia Nuglia e via di centa che sono radicalmente diverse da quella di Spilinga e che si vanno un po' cosa per tutto utilizzando tutti i residui della lavorazione del maiale e che vengono definiti anche in Calabria ma anche in Basilicata vengono detti pezzente perché venivano dati ai poveri che partecipavano alla preparazione dei salumi alle conserve di strutto e di altro i quali raccogliendo frammenti di fegato frammenti di polmone e di altro pepandoli convenientemente ed aggiungendo i semi di finocchio la utilizzavano assieme alle verdure selvatiche miste di primavera tra cui l'immancabile finocchio oppure con i maccheroni fatti in casa e il pomodoro conservato nelle bottiglie convenientemente con il peperoncino dentro e l'inevitabile foglia di basilico per quanto riguarda il finocchio ricordo sempre quando tornando a casa dalla scuola elementare avvertivo nell'aria questo profumo che mi diceva che quel giorno avrei scialato a tavola ma ci sono anche le presenze stranamente inglesi e questa volta visto che spaziamo nel Mediterraneo dobbiamo richiamarci alla Sicilia perché è uno dei vini più noti siciliani a livello internazionale è un'invenzione degli inglesi mi riferisco al Marsala il quale Marsala era un vino che somigliava molto ad un vino prodotto in Spagna famosissimo in una località che si chiama Cres della Frontera e quindi il vino di Cres è molto simile al Marsala siciliano ma attenzione bisogna aggiungere al termine al sostantivo Marsala l'aggettivo vergine quindi il Marsala vergine è quello prodotto semplicemente schiacciando le uva ed è simile al vino di Caressi gli inglesi si rifornivano in Spagna ma arrivati nel mezzogiorno ed in Sicilia si sono resti conto che quel vino per loro andava benissimo meglio di quello di Caressi c'era un problema che per mandarlo in Inghilterra bisognava metterlo nella stiva di una nave e la nave per arrivare ai lì di inglesi inviegava un periodo di tempo per cui il vino andava a male e quindi bisognava correggerlo e per correggerlo lo hanno addizionato di alcol e lo hanno addizionato di caramello con il caramello e l'alcol il Marsala vergine è diventato il Marsala tucur e quindi una presenza inglese gli inglesi che arrivano e in qualche se vedete le prime marche di Marsala hanno nomi inglesi Ingram e via dicendo in Florio arrivano dopo e ancora presenze normanne presenze normanne per questo la cosa è molto più semplice i normanni hanno lasciato il sidro ora ora in un nel suo famoso libro il Lenormand intitolato la Gran Gres la Magna Grecia dice che mentre si trovava a Mileto che come credo un po' sappiate tutti che è stata la capitale dei normanni in Calabria gli avevano servito a tavola del sidro e però poi ci sono altri che dicono ma non è che se l'ha inventata questa cosa perché non abbiamo mai avuto la possibilità di berlo né sappiamo dove si faccia dove si prepari e così preso dalla curiosità io mi sono mosso nella loro scia per cercare ad andare a cercare il Sandogral del sidro ed è sono arrivato alla conclusione che effettivamente quando andavo nelle campagne e non dicevo nemmeno sidro dicevo quello che si fa con le mele mai sentito mai assaggiato eppure una volta stavo andando in un borgo che si chiama Novalba di Cardinale e andavo a casa di un dal Domenico Cutullè il quale mi aveva preparato una zambogna su commissione ed io andavo ad acquistarla in un periodo in cui avevamo dedicato grande attenzione alla musica popolare all'università e quindi cercavamo di avere una documentazione strumentale la più completa possibile era sera era una baracca di legno calcolate che in quella zona io ero in viaggio dalla mattina e dalla mattina quando si entrava in una casa la prima cosa che ti offrivano era l'anice e che quindi non si poteva rifiutare perché per entrare in consonanza bisogna accettare altrimenti è vissuta come un'offesa qui apro una piccola parentesi consumare lo stesso cibo o consumare la stessa bevanda ma qui forse potrei fare a meno di utilizzare il termine bevanda a partire da questo momento perché dovrei parlare di vino o di alcolici vari significa praticamente siccome la reazione l'impressione l'interpretazione del consumo dello stesso cibo il cibo come è noto si traduce in sangue e quindi mangiando lo stesso cibo finiamo con l'avere quasi lo stesso sangue diventiamo e stabiliamo una parentela in qualche modo e questo è il motivo per cui mentre stiamo mangiando se qualcuno bussa alla porta inatteso ci disturba o quando vogliamo mantenere le distanze con qualcuno che è invadente gli diciamo abbiamo forse mangiato assieme e quindi entrato in questa baracca con un mio collaboratore Enzo Lavena che è un etnomusicologo il tempo di andare questo Domenico Coutule mi ha chiesto che cosa volessi bere ha cominciato anice cognac era già la sera e cominciavo a non reggermi più sulle gambe e poi ha detto vino era la cosa più innocua in quel momento tra quelle che mi aveva proposto ed offerto e io ho detto subito sì è venuta la moglie ha portato una bottiglia ha riempito i bicchieri e io ho cominciato a berlo ma non era vino e però era una cosa che conoscevo però sapete quando pensate ad altro non riuscite a cogliere la realtà nella sua vera essenza e così sorseggiando sorseggiando intanto perché era piacevole e poi perché continuavo a chiedere ma che cos'è avevo votato il bicchiere intanto la moglie aveva portato via la bottiglia quando lui si è accorto che la situazione era quella vale a dire che il bicchiere era vuoto si è preoccupato di che se ne desiderassi ancora e io disse di sì ripeto perché era piacevole la bevanda e perché continuavo a chiedermi che cosa fosse a quel punto si rivolse alla moglie e disse testualmente mare porta uvine e puma se non veci un salto sulla sedia ci mancò poco il vino di mele lo aveva chiamato in dialetto avevo trovato il sidro alcune volte quando cerchi delle cose non riesci a trovarle altre volte il caso benevolo te le mette su un piatto d'argento ebbene ebbene applausi 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 ma il nome come era questa bevanda uvine e puma il vino di mele il sidro e il sidro asaita no in questo poi un attimo so che non posso andare oltre misura l'ho promesso tra l'altro in partenza ma poi ho scoperto che anche nelle campagne guarda caso di San Marco Argentano ancora qualcuno lo fa altro caposaldo normanno in Calabria e però dicevo che questo riferimento agli inglesi ai normanni ai frangesi aggiungiamo gli spagnoli ci sono due termini che sono spagnoli picchio che sta per il grasso un ammasso di grasso e ancora secondo alcuni il morsello catanzarese deriverebbe dal muerzo che è parola spagnola ma quindi le cose che ho finora detto tutto ciò consente un tentativo di unificazione di esperienze storico culturale comuni e tuttavia ho necessità di puntualizzare alcune cose perché il discorso diventerebbe necessariamente un corso di incontri ed è e parto dalla triade mediterranea d'altra parte l'intervento come titolo tavole mediterranee la triade mediterranea credo che sappiate tutti che cosa si intende per triade mediterranea si intende il grano il pane e la pasta si intende l'uva e il vino si intendono le olive e l'olio su ognuno di questi argomenti si potrebbe tenere un corso di lezioni e quindi vi chiedo Venia se necessariamente sarò costretto ripeto a puntualizzare e perciò stesso a mantenermi su un piano di non approfondimento parliamo di tavole parliamo di triade parliamo di triade mediterranea ancora una volta secondo i romani ma secondo loro stesse lo dicevano il pane così come noi lo concepiamo oggi vale a dire un ammasso di farina acqua sale eccetera più il lievito i romani avevano imparato a farlo in Egitto quindi finora abbiamo parlato di Grecia Spagna Francia mettiamoci pure l'Egitto il pane viene dall'Egitto sembra che non ci siano dubbi in merito né ho la possibilità di fornirvi tutta la documentazione che ho fatto in un capitolo di un mio libro che tra l'altro è il testo di una relazione tenuta a un convegno a Caserta anni addietro ma dall'Egitto sarebbe passato alla Grecia e dalla Grecia poi a Roma ora in Grecia il grano i poeti come Siodo lo chiamano bios che credo tutti sappiate significa vita e quindi identificavano il grano con la vita o con un alimento che garantiva la vita bios lo chiama esiodo ma poi c'è un'altra cosa interessante perché il pane così come ripeto noi lo concepiamo e come si era diffuso dall'Egitto alla Grecia e poi a Roma lo troviamo in Omero il quale Omero quando parla di Polifemo così lo descrive era un mostro gigante e non solo somigliava attenzione a un uomo mangiatore di pane ma a un bicco selvoso del Celsimondi che appare isolato dagli altri sottolineo quello che ho appena detto un uomo mangiatore di pane quello che cattarizza un uomo a differenza degli animali o di esseri mostruosi come Polifemo è il fatto che si nutrono di pane quindi il pane è identitario dell'umanità in questa ottica ma poi altri termini che partono dalla ancora una volta dalla Grecia c'è un termine che viene usato in dialetto tranquillamente e che ha la sua traduzione italiana o se preferite il termine italiano che ha la sua versione dialettale la versione dialettale è particolarmente significativa ed è sanguglia prieviti strozza preti perché i preti non è noto almeno ufficialmente fanno voti per cui si privano di alcuni piaceri della vita stavo aggiungendo e aggiungo della carne e quindi è necessario trovare delle forme compensative di piacere e quindi la buttano sulla tavola per definizione gli ecclesiastici sono pingui e sono così legati al cibo che quando lo mangiano lo mangiano con tale avidità che finiscono quasi con lo strozzarsi strozza preti questa è la versione corrente ma ce n'è un'altra che è un po' più ambiziosa ed è consistente in una etimologia che risale ancora una volta al mondo greco strongulos preptos come vedete è quasi identico strongulos preptos significa gnocco cavato con le dita quindi come vedete potete poi scegliere a piacimento sulla prima o sulla seconda versione ma c'è ancora un altro termine per un tipo di pane che si fa con la farina del grano appena raccolto e macinato che viene aggiunto alla spuma e al liquido di cottura dei ceci un pane che fanno ancora in alcuni paesi come l'Uzzi per esempio in provincia di Cosenza e che si chiama panattassimo panattassimo da dove viene fuori questo termine ancora una volta dal greco eoartassimos significa solenne un pane solenne che si fa in occasioni particolari anche per rendere grazie alle divinità che hanno garantito un ricco raccolto ma c'è un'altra cosa interessante c'è un termine che usiamo correttamente questa volta passiamo a Roma che è compagno usato oltre che in politica per una parte ben precisa anche in generale compagno di classe compagno di scuola e via dicendo ora se non lo sapete compagno ha un'etimologia molto semplice cum panis c'è uno che mangia con me lo stesso pane e ritorniamo al punto di partenza e passiamo alle olive e all'olio qui scomodo Sofocle il quale in una sua nota tragedia intitolato Edipo a Colono scrive c'è qui un albero non biandato dalla mano dell'uomo germenato da sé medesimo e verdeggia abbondantemente in questa terra si riferisce alla Grecia e ad Atene in particolare oltre che a Colono l'olivo dalle foglie glauche alimento dei bambini che mai rapace vecchio barbaro devastatore estirperebbe con le proprie mani poiché adesso guardano gli dei dagli occhi chiari e quindi nato da sé medesimo non generato e inquadrato nell'ottica del divino nell'ottica della divinità non solo dice che nessuno si permetterebbe mai di estripparlo perché è protetto dagli dei ma non dimentichiamo un'altra cosa che la dea protettrice di Atene era Atena poi Minerva nella versione latina e Minerva era diventata tale cioè aveva avuto questo ruolo nell'antica Atene perché c'era stata una specie di competizione tra lei ed altre divinità e lei aveva vinto perché aveva dato l'ulivo ad Atene e quindi alla Grecia e quindi all'umanità ma c'è da aggiungere un'altra cosa che nell'antichità questa divinità dell'olio che tra l'altro poi si è termessa fino ai giorni nostri per esempio un individuo che ha avuto ruoli emergenti a livello storico e che è stato per esempio eletto re o che ha avuto per successione il ruolo di re o un vescovo ed altri vengono definiti undi del Signore undi con l'olio non solo c'è l'olio che si usa per i bambini e c'è l'olio santo nel momento in cui ci allontaniamo da questa terra e quindi questa sacralità dell'olio che tra l'altro ha un ulteriore precedente perché c'è stato uno dei figli di Apollo che non era un dio era un semidio si chiamava Aristeo era stato lui che aveva insegnato agli uomini la cultura della vite e dell'olivo e approdiamo alla vite e al vino nei salmi quindi nella Bibbia è dato leggere il vino che allieta il cuore degli uomini l'olio che fa brillare il suo volto e il pane che sostiene il suo vigore il vino che allieta il cuore degli uomini andiamo alla cultura popolare i proverbi sul vino calabresi sono tra i più belli in circolazione e le dico calabresi non nell'ottica sciocca di alcuni che scrivendo libri di cucina mettono come tipico del loro paese una minestra di pasta e ceci pietanza ampiamente diffusa se non nell'universo mondo quasi ma perché non li ho trovati da nessun'altra parte e non sono traduzione pure semplice in termini dialettali di qualcosa che altrove si può trovare uno dei più belli in assoluto dichiara meglio vino maleditto che acqua santa e un altro che fa il paio con il vino che è lì del cuore degli uomini dice curre a Dio chi ne li vambara colui al quale le cose vanno lisci curre a rovino chi ne tena guai cioè convorta più il vino del Padre Eterno quando ci troviamo in determinate condizioni di tristezza dell'esistenza e ce ne sono tanti altri per cui il vino è inevitabilmente associato al cibo o mangiare senza vivare e cionare senza chiovere è come il tuono cui non va seguito la pioggia e ancora questa presenza del vino nell'antica Roma dove si beveva anche smodatamente le persone morgerate dovevano limitarsi a tre coppe la prima da utilizzare per il brindisi la seconda per l'amore la terza per il sonno e in Grecia il vino un po' dappertutto nel mio primo viaggio in Grecia tanto tempo fa mi ero ingamminato sulla strada per Delfi Delfi è la località dove nell'antichità c'era uno dei più famosi sanduari che era dedicata ad Apollo e dove non solo i singoli ma addirittura le comunità calcolate gli stati calcolate per esempio i romani mandavano delegazioni per andare a interrogare Apollo se si dovesse fare o non si dovesse fare qualcosa c'era una secerdotessa che era la Pizia che dava risponsi sulla strada di Delfi allora non c'erano strumenti che mi dicessero qual era la strada da seguire e avevo qualche problema circa la strada per quanto riguardava le cartine geografiche mi sono fermato in un paese di cui non dimentico il nome si chiamava Rakova e mi fermai davanti a una taverna e entrai nella taverna fumosa come tutte le taverne nell'immaginario collettivo affollata in fondo alla sala ad un tavolino c'era un uomo che sembrava emerso dal passato capelli lunghi barba lunga e poi ma me ne resi conto successivamente ai piedi quelle che si chiamavano i purcine cioè una pelle ripiegata con le stringhe legate alla alla caviglia mi chiese urlando per superare il rumore e il chiasso della sala Deutsch Deutsch significa tedesco tedesco e rispose no che ero italiano allora si alzò di scatto e venne verso di me e io per la verità temetti per un momento di dover pagare qualche prezzo per qualche scortesia non voglio usare altri termini usate dagli italiani nel momento in cui Mussolini aveva deciso che bisognava spezzare le rene alla Grecia poi non si sa perché ma invece venne e mi trascinò al suo tavolo per bere vino con lui cosa accaduta un numero imprecisato di volte ad Itaga un'altra volta dove il contadino al quale chiedevo sempre informazioni sulla strada mi portò all'interno costrinse anche mia moglie che era seduta ancora in macchina a seguirmi e ricordo come se fosse oggi che nel muro c'erano invissi due pezzi di legno ricurvi verso l'estremità sui quali poggiava un barile come era da noi qualche tempo addietro in maniera che si potesse fare ruotare per assumere il vino per accogliere il vino nella caraffa Spagna credo che tutti abbiano una qualche nozione dei vini della Rioja o anche lo abbiamo citato prima del vino di Caress di cui esistono diverse varianti se qualcuno di voi ha visto quel bellissimo film intitolato Il pranzo di Babette c'è un momento in cui il generale è seduto a tavola che è sbalordito per quello che gli si offre perché in realtà lui non lo sa ma c'è una cuoca che viene da Parigi anche se si trovano in uno sperduto paese della Danimarca e a un certo punto gli porta il vino lo versa e allora lui resta sbalordito è vino di Caress e poi va a Montigliado e dice pure l'anno di produzione di quel vino ora è un vino di Caress di cui esistono diverse varianti tra cui sono belli i termini il seco l'oloroso e l'amondigliato e ancora il vino come sapete c'è un divieto assoluto per gli islamici di bere vino e però forse non tutti sanno una cosa che è divertente per questo ve la racconto che il vino non si può bere in questa vita ma nell'altra chi va in paradiso può passare da una sborna all'altra a suo piacimento è un paradiso molto terreno quello degli islamici nel quale si ha tutto quello che non si riesce ad avere sulla terra ecco perché la vita non gonda molto per loro e siccome là ci va soltanto il fedele che ha dimostrato di essere tale si fanno esplodere tranquillamente in aria perché tanto l'aspetta un paradiso come questo dove ci sono vergini in numero indeterminato per uomini che le donne non riescono a vederle nemmeno se non attraverso lo spioncino degli occhi sono le uri sono le vergini del profeta che o si moltiplicano a dismisura oppure vengono rigenerate dal profeta questo non lo sappiamo ma poi bere ripeto vino in quantità e per di più un paradiso che è come un oasi quella che loro cercano disperatamente nel deserto quando il sole impietoso picchia sulle loro sulle loro teste e quindi il paradiso è una grande oasi fresca con le acque che scornano però forse è meglio buttarsi sul vino e dove le uri sono a portata di mano portata di mano ancora oggi nei paesi della fascia perché non è che possiamo limitare il discorso parlando di Mediterraneo ai paesi come la Grecia la Spagna eccetera eccetera ci sono anche quelli che si affacciano sul Mediterraneo o sponda africana e siccome parlavamo di mani mi venne fatto di pensare alla presa del cibo con le mani ancora oggi come facevano i romani il cibo si prende con le mani e però attenzione perché non è un gesto qualsiasi attraverso il gesto della presa del cibo si può stabilire a quale categoria sociale appartiene quello che sta mangiando perché se lo afferra con tutta la mano è un affamato e quindi è un poveraggio se lo prende con tre dita è già ad un livello superiore sociale superiore se lo prende con due è proprio l'optimum il meglio del meglio appartiene a una classe certamente elevata che non ha bisogno di nutrirsi e di mangiare per sanare la fame ma solo per piluccare e prendere piacere dal cibo portato sulla menza e parliamo di vino io credo che una delle cose più belle ho detto dei proverbi avrei potuto continuare ma c'è uno di proverbi che è bellissimo che non è per molti quei seduti un uomo è un cinquantino passa la pimpina e prende la pimpina io so io so io so una versione più benevola perché sposta la data in avanti e dice la mia versione sposta la data in avanti dice arrivata la sissandina dieci anni dopo la safimine piglia vino l'ho detto che avrei mi sarei limitato ma una delle cose più belle sul vino una delle cose più belle non è un proverbio è un consiglio l'ho letta graffita sulla parete di una cantina in Francia e non l'ho dimenticata è giocata sul fatto che in frangese vino e vano cioè inutile si pronunzano più o meno nello stesso modo e la frase dice il consiglio dice fe bian ton ven fai bene il tuo vino tu le rest e ven tutto il resto è inutile e poi grano pane olio vino il proverbio calabrese se c'è la farina lui glielo vino a casecina e poi passiamo rapidamente alle carni le carni lo spiedo l'attrezzo dominante per la preparazione delle carni già gli eroi di Omero mangiano quarti di bue perché poi devono combattere con la corazza addosso che a conti fatti pesava tra i 40 e i 60 kg e devono pure giustrare per salvarsi la pelle e uccidere l'avversario e quindi grande abbondanza di proteine il cibo carneo le proteine carne che fanno sì che uno sia un uomo vingoroso e violento sapete che c'è una un discorso ampio sui cibi maschili e cibi femminili cibo maschile per eccellenza è una bistecca al sangue cibi femminili per eccellenza sono cibi delicati dolciumi formaggi teneri e via dicendo questo per accentuare a livello di cibo le differenze sessuali ma in Grecia trovate nelle campagne il senso comunitario della vita le case sparse nella campagna poi c'è una taverna e lì si danno convegno la sera e ci sono spiedi sui quali ruotano sulle braci agnelli interi oppure un cibo delizioso che sembra non sia molto gradito alle donne come tutte le interi ora che in Grecia si chiama cocorezzi ed è una mazzacorda gigante messa a rosolare che poi si mette su un piatto e si taglia a fette e poi spiedi orizzontali e spiedi verticali il kebab di cui esistono diverse versioni e ancora per le interiora si dice che i francesi cambino per quanto riguarda alcuni aspetti alle nostre spalle perché noi le interiora le buttiamo via loro se le prendono e se le mangiano noi miriamo ai quarti posteriori dell'animale e invece loro mangiano le trippe e spangiano per usare un termine molto bello a nostre spese ma si trovano anche in Spagna le pietanze di Caglios si chiamano o Rignones i Rognoni guarda caso lo scomodiamo ancora Ceres Rignones al vino di Ceres una pietanza favolosa se la cercate in Italia non lo trovate da nessuna parte e poi i testicoli di Toro nei testicoli è concentrata la forza vitale del maschio possente e potente Achille lo sapete perché era diventato l'eroe invingibile che era perché si era nutrito da ragazzo dei testicoli di un leone e ancora tra i cibi afrodisiaci oggi andiamo più modestamente verso quelli che si chiamano per non usare il termine testicolo granelli di pollo per esempio e ancora pesce tantissimo da dire se mi permettete vado avanti rapidamente da mia via alla fine patate invece interessante le patate come sapete si dice che sono venute in Italia dalla Spagna e dal Portogallo ma in Spagna e in Portogallo chi le aveva portate e la frase molto bella dice l'oro lo avevano portato gli ammiragli la sifilide l'avevano portata i marinai e le patate le avevano portate i preti patate nei confronti delle quali ci sono stati grossi pregiudizi perché una volta si mangiavano le foglie non i tuberi e qui contengono una sostanza che è dannosa per la salute è stato un frangese ad avere trovato il sistema per mangiarle convenientemente era un farmacista si chiamava parmentier se voi andate in Francia in quasi tutti i ristoranti trovate nel menù una soup parmentier che è una specie di purea di patate liquida e ancora le rape questa è divertente ve la cito come una cosa divertente negli epigrammi di Marziale si parla a un certo punto di cibi che si donano all'ospite e questo dice parla delle rape queste rape che ti doniamo all'ospite e che amano il freddo dell'inverno che è molto bella questa cosa e che amano il freddo dell'inverno mangia d'abitudine romolo in gelo quindi era un cibo divino tant'è vero che se ne nutriva romolo nell'aldilà e i fichi mi avvio davvero la conclusione i fichi omero li menziona nell'odissea e secondo la mitologia in origine solo gli dei dell'olimbo se ne cibavano essendo ritenuti troppo buoni per i comuni mortali augusto il grande imperatore che aveva gusti frugalissimi se ne nutriva secondo Svetonio con pane e bigio quindi pane integrale formaggio vaccino e pesce ma la cosa più divertente è che sapete che se parlo di fichi e fichi secchi in Calabria penso alle crocette columella scrittore latino parla di fichi duplici o doppiati scrive testualmente altri ancora scelgono dei fichi verdi ben grossi e polputi li tagliano in due con una canna o con le mani li aprono e li lasciano appassire al sole poi quando sono ben asciutti durante un pomeriggio quando per il calore del sole sono un po' rammolliti li raccolgono e secondo l'uso citiamo ancora una volta gli africani se no sembra che ce ne dimentichiamo e quindi dice e secondo l'uso degli africani e degli spagnoli li avvicinano gli uni agli altri e li comprimono per fare loro assumere le figure di stelle fioretti eccetera le crocette ed Orazio scrive ma se a me dopo una lunga assenza si presentava un ospite ovvero il vicino gradito commensale quando ero libero dei lavori a causa della pioggia allora si che ci si dava alla pazza gioia non con besci con brati in città ma col pollo e il capretto quindi l'uva sospesa al solaio e la noce con i fichi doppiati rallegrava le menze in vine del desinare si imbiandava il gioco del bere e chiudo con l'ospitalità l'ospitalità sulle rive del Mediterraneo il punto di partenza è Ulisse e gli si dà la possibilità di lavarsi i piedi c'è la nutrice Euriclea che gli lava i piedi ed è facendo questo gesto che tocca la cicatrice che rivela la sua identità anni addietro su segnalazione di un amico aveva una rubrica sul giornale di Calabria ai tempi di Piero Ardenti mi indicò un ristorante di Scilla da segnalare sul giornale e quindi andai un giorno di ritorno da Reggio mia moglie aspettava in macchina e andai dove mi avevano dato questa indicazione c'era una scala di una casa di paese con un arco in pietra che respingeva quasi e quindi ho detto dove mi hanno mandato e sono tornato indietro e lei giustamente mi ha detto visto che c'eri potevi fare e poi c'era la scala e così sono tornati indietro e a termine della scala si apriva un locale con quadri alle pareti ma non robaggia non groste erano quadri c'erano piante e c'era un balcone che lasciava a bocca aperta perché era a strapiombo sul mare di Scilla non c'era nessuno con barbio e un ometto che poi seppi avere il nome di Santo Pontillo non vive più da tempo gli chiese che cosa potevamo mangiare e ha detto non lo so è andato in cucina è venuto la cucina era a fianco e ha detto io posso fare pasta con i pomodori secchi e poi un'insalata di cipolle crude di tropea mangiammo poi uscimmo sul balcone sul terrazzo e questo uomo con la coppola in destra aveva preparato tutto lui non c'era nessun altro cominciamo a parlare ed era un piacevolissimo conversatore ci raccontò per esempio di una volta la vigilia di Natale lo sapete che lì nella zona della Chiana Lea ci sono molti che hanno le case e ci vanno testate e anche nelle feste comandate vigilia di Natale c'erano le tavole apparecchiate tutti seduti attorno alla tavola arrivò una mareggiata e si trovarono tutti a galleggiare tra le acque dello stretto poi arrivò pure la moglie e a un certo punto si era fatto tardi chiese il conto lui guardò la moglie e si indesero con lo sguardo dopo di che disse il conto siamo diventati amici è rapidissima la lettura diversi anni dopo leggendo questo libro di uno studioso frangese Leo Moulin il titolo è l'Europa a tavola ho trovato questo brano lui racconta di trovarsi nel Peloponneso in Grecia a bordo di una macchina che aveva noleggiato quindi con un autista e a un certo punto vede dei campi di fave e dice all'autista chiesi quindi alla mia guida di fermarsi in qualche villaggio dove sarebbe stato possibile mangiare quel che mangiavano i contadini del posto il mio desiderio fu esaudito mi furono servite le migliori olive del mondo le calamates cipolle e peperoni crudi formaggio fresco di capra e in fine le mie fave profumate che tanto desideravo il tutto bagnato dal famoso Rezzina il vino resinato di cui già parlava Omero mangiai con molta gioia il contadino che mi aveva servito mi osservava poi avvicinò un bicchiere al mio e lo riempì con quel lento e aggraziato gesto della mano dall'alto verso il basso che doveva essere quello di Ebbe che era quella che serviva gli dei bevemmo vogli pagare il conto rifiutò lo straniero spiegò la mia guida aveva apprezzato la sua cucina era quindi suo ospite e amico giusto in Grecia e in Galapia ma credo che non sia un caso che poi Italia e Grecia siano mi consentite di dire gli unici paesi europei che accolgono i migranti come stiamo facendo un americano e chiudo siccome Enzo dice meno male io posso fare pure a meno di leggere quest'ultima parte del discorso un americano che si trovava dalle parti di Firenze si chiamava Philip si chiama Philip Heisenberg disse agli amici che scendeva verso sud questa è una poesia è intitolata Mezzogiorno perché vuoi andare giù mi hanno chiesto stai attento al portafoglio il sud è una terra povera ora sono tornato e il mio passo è pesante zoppico lentamente con sforzo con spalle afflosciate dentro il mio sacco c'è il profumo di una collina di rosmarino selvatico mentre asini banchettavano su un campo di margherite senza macchine e quei motorini dannati distratti soltanto dal vento e dalle onde blu dentro c'è il gusto di petali di rosa in un liquore rosato in un bar barocco in una città dimenticata dimenticata dall'Italia ma non da me c'è il libro regalato da un anziano sconosciuto benché lui l'abbia appena comprato pensando che a me serva di più ci sono 3000 lire di più perché durante la colazione un altro mi ha detto sei americano assaggio questo cannolo che ho ordinato ora dai mangialo tutto mentre ancora un altro pagava il mio cappuccino e se ne andava furtivamente ci sono quei due baci donati alle mie guange dal nonno di qualcuno non so di chi perché apprezzavamo la stessa scultura c'è la poesia che non mi lascerà mai l'alba nella sila i cave sotto Napoli le nozze ad erice il flusso dei dialetti non riuscivo a capire tutte le parole ma il senso alla musica rimarranno con me per sempre ci sono 24 indirizzi di due dozzine di nuovi amici che ho incontrato per caso perché ho perso un treno la prima volta facendo autostop l'autista che mi ha salvato mi ha portato a pranzo un pranzo lungo tutto il giorno con 23 dei suoi amici vicinissimi ora i miei amici vicinissimi c'è la bottiglia di vetro piena di un litro di sole giallissimo sotto forma dei migliori limoni di tutto il mondo tutti lo sanno grazie il limongello come quel paese dolce forte è un po' acido il regalo più leggero di tutti offerto da qualcuno a cui è piaciuta la mia poesia ma non era la mia poesia era la loro la vivono ogni giorno il mio passo è pesante perché porto questo saccone sulle mie spalle un sacco pieno di tesori nuovi ma antichi attenzione sì ho visto il meridione ho visto questa terra povera ed io sono un derrone grazie grazie grazie